Arriva una prima certezza per l'Arezzo. Roberto Gemmi ha infatti rinnovato il suo contratto con la società Amaranto. Sarà il nuovo direttore sportivo e sempre il responsabile dell'area tecnica anche per la prossima stagione. Lo annuncia direttamente in un comunicato il presidente dell'Arezzo, Mauro Ferretti. In questi mesi, ha detto il presidente, ho avuto modo di apprezzare il lavoro di Gemmi, al quale avevo comunque già dato mandato a gennaio, di programmare anche in previsione del prossimo campionato. Dare continuità a questo lavoro è stato quindi naturale. Sono convinto che le sue qualità, la sua esperienza e il suo entusiasmo siano gli ingredienti giusti per mettere in atto i programmi che vedono nella prossima stagione un altro passaggio fondamentale nel progetto di crescita del calcio ad Arezzo, dei quali ho parlato qualche settimana fa in conferenza stampa allo stadio e che oggi riconfermo, dice sempre Ferretti. Anche Roberto Gemmi, nel ringraziare il presidente per la fiducia, si dice soddisfatto di questo accordo raggiunto. La piazza di Arezzo è indubbiamente l'ideale per fare calcio, ne ho già percepito chiaramente in questi mesi il fascino e le potenzialità che superano di gran lunga le spigolosità proprie di un ambiente giustamente esigente. Adesso ci mettiamo a lavorare per costruire, tassello dopo tassello, una squadra che sappia dare ai tifosi amaranto le soddisfazioni che meritano.